Lorenzo Magni ecco il gruppo, Andrea, Andrea, Andrea attacca Andrea cerca di staccarsi dai primi contrattaccanti di fatto rimangono in tre rimangono in tre si sta finendo di frazionare il gruppo, ecco che Andrea madonna, ha innestato la quinta mia, la quarta il numero è, lo vedi? sono in tre quel numero qua dietro adesso questo è Andrea Rigoni si è un po' staccato con la penizione Andrea Rigoni Penaroli, rimangono indietro tutti ecco qua in favolo Andrea Rigoni ecco Andrea Rigoni Andrea ce l'abbiamo qui quasi addosso anche i due i due compagni di fuga stanno cedendo è qua attaccato l'altro, è di 15 secondi 10 secondi ha dal primo sempre Andrea Andrea si gira per vedere i suoi compagni di fuga cerca di andare a prendere l'atleta che si è staccato dal gruppo sin dalla partenza è partito a bomba ancora non lo vediamo si è spaccato seguono uno per uno il gruppo non si vede più ecco Andrea Andrea Rigoni ha intenzionato ad andare a riprendere il fuggitivo mi sembra che comincia a cedere un po' ecco Andrea che ha ridosso ecco l'ha quasi ripreso e comincia un po' a cedere è partito a bomba forse è partito troppo in fretta troppo in fretta Andrea è lì adesso tenta il soppasso ecco ecco tentato il soppasso dai Andrea dai Andrea ormai ormai l'ha seminato l'ha seminato Andrea Andrea Rigoni non molla vedo due immediati non so se siano uno dietro le spalle di Andrea è quello che è andato in fuga l'altra Andrea è andato in fuga è andato in fuga ancora andrea ha guadagnato un centinaio di metri sull'immediato inseguitore bravissimo bravo bravo Andrea ce l'abbiamo attaccato non molla più seguiamo la fuga di Andrea Rigoni di Andrea Rigoni assemilato tutti ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti.